Ben ritrovati ancora una volta nel negozio di Milena Betto, appunto ancora una volta siamo qui per parlare di stile di abbigliamento. Ciao Milena. Ciao a tutte, siamo a Gallarate, oggi c'è il sole in via Manzoni e vediamo di riuscire a parlare anche oggi di qualcosa che può essere utile. Io direi magari oggi, visto che sta arrivando la primavera, sì, no, non si sa, ma arriverà, direi cosa si può fare per sistemare l'armadio perché tutti i giorni, me compresa, ho tutto sotto sopra, ho la cosa estiva, il maglione pesante, quindi come dobbiamo fare? E anche lì bisogna avere un attimino di organizzazione, ma non voglio consigliare, perché io non sono una casalinga, quindi dove mettere, come mettere, scatola, peso, ognuno, io proprio, anzi se qualcuno voglierà aiutare a casa mia, io sono felicissima di essere aiutata. La cosa che volevo, secondo me era interessante, visto che parliamo di vestiti, di colori nuovi, è proprio capire cosa tenere nell'armadio e cosa non tenere. Io consiglio sempre, anche quando lo faccio io, di tenere le cose che so che domani potrò mettere, cioè mi spiego, domani devo andare in negozio, domani devo andare in ufficio, ecco mi metto questa maglia, sì, no, se sì la tengo, se no la metto via, perché se non la metterò domani, non la metterò neanche dopo domani, neanche dopo domani. E noi magari abbiamo delle cose in cui siamo affezionati, perché magari o abbiamo speso magari una certa cifra oppure ci ha accompagnato in, non so, in qualche cena, in qualche evento che ce lo ricordiamo, però poi, siccome il vestito, come ci presentiamo, fa parecchio e insomma ne va un po' anche magari del nostro lavoro, di quello che dobbiamo fare, ecco, scegliamo bene cosa tenere e cosa non tenere. Due vantaggi? Siamo vestite bene, siamo vestite nuove, possiamo comprarci qualcosa di nuovo e l'armadio non è soffocato e non cuore di caderci addosso tutte le volte che lo apriamo. Anche se a volte il tenere qualcosa di vecchio può servire, perché la moda si sa, spesso e volentieri ripropone dei capi che già andavano qualche anno fa, c'è stato il periodo degli anni 60, ora ritornano un po' i vestiti maxi extra large anni 80. Sì è vero, diciamo che il ritorno è sempre qualcosa che si ripropone, ma è il sapore che ritorna, è l'idea del taglio che ritorna, è bello ottenere secondo me qualcosa di vintage che magari avevi di importante perché ti ricorda, perché è un'epoca, perché magari è un capo importante, quindi magari di qualche stilista e quindi è anche a volte diciamo un piccolo bene prezioso da tenere custodito, ma altre cose che magari sono state comprate non ci vanno più, perché se le proviamo, vediamo che comunque e compriamo una cosa simile che ricorda, vediamo che quella ormai è obsoleta, quindi non è vintage, è vecchia, è una cosa che non va più bene, è una cosa che magari se vuoi tenere, se hai tanti armadi, ma altrimenti magari compri qualcosa con un sapore di quel periodo, altrimenti io direi che forse no però. Diciamo che quando si mette a posto l'armadio non bisogna essere troppo sentimentali, perché altrimenti si finisce per non buttare via niente. Brava, si tiene tutto e poi si esce di casa però, perché o si compra un'altra casa con dei locali o degli altri armadi o si esce di casa, no bisogna avere veramente, ci sono delle persone che vanno a casa, magari a delle amiche a togliere le cose dall'armadio dell'amica, perché no, io penso che ognuna deve fare da sola. Certo che magari con sta fatica però volete mettere, riprendere qualcosa tipo questa che può avere il gusto anni 80, ti ricorda magari una serata in discoteca, però non è quella di una volta che magari diciamocelo, il tempo passa e non ti va neanche più tanto bene, insomma le forme cambiano. Certo e poi comunque i tessuti si possono anche rovinare, quindi insomma c'è anche il rischio di mettere un abito che non è più di alta qualità, mettiamola così. Io direi che anzi è bello giocare col passato, mixare le cose passate, ricordarsi magari vedendo una foto, vedendo qualcosa, cercare di riproporsi però nell'attuale, ecco quello sicuramente. Certo e appunto dicevamo stanno tornando un po' di moda i capi anni 80, vero? Sì, queste forme un po' over, questa era la spallina, guarda possiamo andare, per esempio anche questi vestiti, cioè vi ricordate il pantalone con le pants da mettere, così i colori sono gli stessi, ci sono tutte queste forme un po' over, ecco lì anche quello da dire, il ricordo dell'anno 80 come ricordo dell'anno 70 è bello se quel tipo di moda, quel tipo di capo è tagliato per te. Ecco allora sono sicura che è una cosa carina perché altrimenti se tu non ti rivedi negli anni 80 perché ti mortifica la silhouette, non è per il tuo fisico, io direi che si può magari avere un'idea, magari fare un accessorio ma optare su qualcosa più per se stesse, più che valorizzi la propria figura. Certo ma lo diciamo sempre, va bene seguire la moda però soprattutto bisogna seguire se stesse e quindi insomma scegliere tutto ciò che veramente ci fa stare bene. Perché non dimentichiamoci che seguendo si seguono comunque i consigli e il diavolo Veste Prada è stato veramente docet, veramente ha insegnato cosa c'era dietro la famosa cintura color turchese. Assolutamente, certo. Ecco e quindi non è detto che per forza di cosa ti debba star bene, c'è tutto un background dietro. Assolutamente, quindi insomma mi raccomando anche voi a casa mettete a posto bene gli armadi e scegliete di comprare cose nuove adatte a voi, al vostro corpo. Sì, anche con ironia, con ricordo, ma sempre però con un occhio amanti, ecco non con un occhio sempre solo al passato. Assolutamente. Passato rivisto. Assolutamente, grazie Milena anche per questa chiacchierata. Grazie a voi, ciao ciao ciao. Grazie, ciao alla prossima. Grazie a voi.